Nel pomeriggio freddo di una domenica romana, Papa Francesco viene accolto dal calore della parrocchia di San Michele Arcangelo a Pietralata. Il primo incontro è con gli ammalati, ai quali chiede di essere coraggiosi e fiduciosi nel Dio che ama. Ringrazia poi Senzatetto, un nome che, afferma, è una croce. Voi sopportate che vi chiamino così, continua, vi capisco bene, vi sono vicino con la mia povertà di persona e con il mio cuore. Il Papa incontra poi i genitori dei bimbi battezzati e invita ad educare i figli, a farsi il segno della croce. Ai bambini più grandi ricorda che un cuore invidioso e geloso è l'inizio della guerra, è il diavolo che spinge in quella direzione, mentre Gesù è la pace vera. Per questo andare a messa significa sentirsi più forti per lottare nella vita. Alle 18 la celebrazione della messa, nell'Omelia, Papa Francesco invita a leggere ogni giorno un passo del Vangelo e a lasciarsi guarire da Gesù. E come apre il cuore pregando, ma Signore, io non posso con quella gente di là, la odio, mi ha fatto questo, questo, questo. Guarisce questa piaga, Signore. E se noi chiediamo a Gesù questa grazia, Lui la farà. Lasciati guarire da Gesù. Lascia che Gesù ti guarisca. Lascia che Gesù ti guarire da Gesù.